Cesare Ruschel ha deciso di onorare il padre con un premio, gli faccio tanti auguri. Gina Lollobrigida L'unica persona che io ho potuto vedere e ho voluto vedere è stato Renato, ma senza retorica, io avevo bisogno di vedere quelli grossi come stanno in scena. Renato Ruschel, sempre qua nel mio cuore e nei miei ricordi, grazie per quello che mi ha insegnato. Ho scoperto anche un mondo del maestro Ruschel incredibile. Non sei mio fratello, ma mi piacerebbe dare. Anche a me. Siamo tutti artisti noi, figli di grandi maestri come Renato Ruschel. 48 anni fa ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere e di lavorare con Renato Ruschel. Ruschel venne una volta a vedere uno spettacolo al Salone Margherita. Buonasera, buonasera, buonasera. Io sono emozionatissimo. Renato Ruschel è stato importante anche per me. Mi manca molto di avere a fianco a me ancora oggi un compagno di lavoro che bastava guardarsi negli occhi per capire che cosa stava accadendo. E' arrivata la bufera. Signore e signori, Renato Ruschel. Giocheranno lassù negli stadi del cielo blu. Signore e signori, Renato Ruschel. Signore e signori, Renato Ruschel. Signore e signori, Renato Ruschel. Signore e signori, Renato Ruschel.